No, non è mai facile fare tripletta, è stata un'emozione speciale e poi vorrei dire tripletta ma mi viene da dire poker perché Martina Batini, campionessa d'Europa, ha ceduto il passo alla campionessa del mondo nei quarti di finale, questo la dice lunga sulla forza della nostra squadra. Le ragazze sono state perfette, ovviamente Alice ha bissato il suo titolo di Vuxi, ha fatto una gara strepitosa anche se era partita con un po' di fatica, enorme l'impresa di Arianna che è rientrata e ha dimostrato incontrando avversarie fortissime cominciando dalla Tibus di essere tornata lei, di essere tornata ai massimi livelli. Quindi mi permetto di dire con una leggerezza e una serenità in più che la renderanno ancora più forte. Grandissima gara di Davide Di Veroli, un'ottima prestazione di Valerio Cuomo, bravo anche Federico Vismara che ha disputato uno splendido match con Borel, ha perso alla priorità ma ha fatto anche lui molto bene. Quindi dico queste cose ovviamente con la testa verso le prove di squadra che sono fondamentali per la qualifica olimpica e per portare questi ragazzi che lo meritano a poter gareggiare tutti sulle pedane olimpiche.